Capodanno a Praga è un'esperienza fiabesca e particolare da provare assolutamente. Già dal periodo natalizio, la città si ricopre di alberi di Natale e mercatini colorati che vendono oggetti tradizionali, dolciumi e vasi di cristallo. Poi, la notte del 31, l'atmosfera diventa ancora più magica. L'ideale è fare un buon cenone a base di prodotti tipici in qualche ristorante frequentato da persone del posto e poi tutti in giro per la città. Nonostante il freddo, a volte addirittura con temperature sotto lo zero, nessuno vuole rinunciare alla magia che solo questa città può trasmettere la notte di San Silvestro. Il centro è affollatissimo di gente e l'ideale è aspettare il brindisi di mezzanotte in piazza Venceslao o nella spettacolare piazza dell'Orologio o sul Ponte Carlo in mezzo a migliaia di persone. Dopo la mezzanotte vengono lanciati dei bellissimi fuochi d'artificio che illuminano il centro città e annunciano l'inizio della festa notturna vera e propria. Ora sta solo a voi scegliere come passare questa magica nottata fra ottime birre e buona musica dal vivo in uno dei tantissimi classici localini birrerie tutti particolari oppure una follia in discoteca fino all'alba. In particolare per chi cerca divertimento all'ennesima potenza, molto frequentata, è la Carlo Vilazne, una mega discoteca proprio vicino al Ponte Carlo che pare sia una delle più grandi d'Europa con cinque piani diversi e tantissimi generi musicali fino a mattina. Grazie a tutti.